Un'attività come quella di Calcio Liguria deve necessariamente essere sostenuta anche da partner commerciali. E noi oggi facciamo conoscenza con uno dei partner commerciali di Calcio Liguria, Mario Giustini, responsabile di Pian dei Tassi Finisterre. Chi siete e che cosa fate? Benissimo, intanto buonasera a tutti. Pian dei Tassi è un progetto edile che presentiamo in Val Brevenna, un progetto completamente nuovo per la valle, in quanto si tratta di un complesso residenziale con tutti i comfort che si possono normalmente trovare in città. Sembra strano da dire, ma in campagna certe cose non si possono avere, non siamo riusciti ad ottenerle. È un progetto eco-compatibile, quindi con un'estrema attenzione per quanto riguarda la sostenibilità energetica. Quindi parliamo di pannelli termovoltaici, di cammini a conduzione termica, di appallet, piuttosto che stufe termiche. E con un prezzo al metro quadro d'attacco sotto i 2000 euro al metro. Io ho voluto fortemente una collaborazione con Calcio Liguria, con l'amico Sandro, proprio perché secondo me è un progetto che si può avvicinare molto ai giovani. Calcio Liguria ha un numero di associati sicuramente importante, per cui potrebbe essere insomma anche un veicolo commerciale anche per voi. Assolutamente sì, infatti abbiamo studiato anche un modo di dare una gratificazione agli associati di Calcio Liguria per chi si volesse rivolgere al nostro complesso ovviamente, dando un coupon del valore minimo di 1300 euro che comunque si rifà all'1% del valore di listino di ogni singolo appartamento. Una scontistica riservata agli associati di Calcio Liguria. Anche 1300 euro sull'acquisto di una casa che comunque è l'1%, diciamo che è una buona base di partenza, quantomeno qualche spesa si rientra e da lì poi il valore sale. Devo ringraziare il comune di Torriglia perché per certe cose è stato estremamente disponibile con noi. Abbiamo avuto delle infrastrutture importanti, abbiamo anche spostato la fermata della Corriere che fa a Brigno e Torriglia di fronte al nostro complesso. Sono appartamenti di lusso in campagna, il posto è incantevole, dominante sulla valle ed è poi a 15 minuti di macchina da Molasana, quindi comunque siamo vicini al Genova. C'è quindi da augurarsi in conclusione che gli associati di Calcio Liguria, visto che è nata con Pian dei Tassi Finisterri questa collaborazione, che in qualche modo si indirizzino con fiducia comunque a voi perché lo meritate, perché siete attenti e perché avete realizzato qualcosa veramente di carino. Certo, sono ben accette anche le persone solamente curiose, voglio dire, gli appuntamenti in cantiere si fanno assolutamente senza impegno, anche solo per venire a dare un'occhiata a un progetto nuovo, un progetto interessante. Grazie.